Quando penso alla lotta ai clan di Casal di Principe, di San Cipriano, di Casa Pesenne, in tutti i territori egemonizzati da loro, da Parete a Formia, penso sempre ai lenzuoli bianchi. Ai lenzuoli bianchi che pendono da ogni balcone, legati a ogni ringhiera, annodati a tutte le finestre. Bianco, tutto bianco, una pioggia di stoffe candide. Furono il rabbioso lutto essato quando si svolsero i funerali di Don Peppino Diana. Il 19 marzo del 1994, alle 7.20 del mattino, la camorra ammazzava Don Peppe Diana, il prete di Casal di Principe che aveva dedicato la vita alla lotta contro illegalità ed abusi, con denunce e prediche ricche di esempi, di nomi e di cognomi, e fu ucciso perché non si era reso alla connivenza e dalla convivenza tra malavita e sistema di potere, quello annidato nelle istituzioni, negli affari e nelle professioni. Fra le iniziative per ricordare quel 19 marzo, ieri nello spazio polivalente di Piazza Forcella, la maratona di lettura organizzata dal comitato Don Peppe Diana e dalle associazioni a voce alta, Libera e Polis, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Napoli, in cui ogni partecipante ha letto una pagina scritta da lui o dagli autori che hanno ricostruito la sua vita, a fianco alla mostra Il mio sguardo libero, volti per la legalità, in cui scorrono i volti sorridenti di persone impegnate nella lotta alla criminalità organizzata E stamattina la presenza di Don Giuseppe Diana si è sentita anche nel centro polivalente La Gloriette, in via Petrarca. Il bene confiscato alla Camorra ed inaugurato oggi dalla cooperativa sociale L'Orsa Maggiore, che ospita adolescenti dai 15 anni in su con problemi di scarsa autonomia o lievi disabilità. Queste sono le iniziative che possono creare l'alternativa ai beni confiscati, cioè l'immagine vera dei beni confiscati, beni confiscati utilizzati restituendoli alla collettività, ma creando anche occasioni di lavoro Questa villa che era di Zazza oggi è della città, è dell'anticamorra e della legalità Bisogna fare tante cose di questo tipo, ma se ne fanno. Il Comune di Napoli in questo in prima linea di ridare alla città e alle associazioni i beni che la magistratura e le forze dell'ordine sottraggono alla Camorra. Abbiamo messo a bando tutti i beni che potevamo, cioè tutti quelli che la magistratura consegna al Comune di Napoli. Tanti poi stanno nella provincia di Caserta. È il messaggio più forte che si può dare alla Camorra e alle mafie. Ti abbiamo tolto i beni e li abbiamo dati alle comunità che tu volevi opprimere. Quindi io credo che non dobbiamo tanto far cassa, ma dobbiamo fare reddito sociale con i beni confiscati.